Stefano Di Chio, ex-S, mare da mare. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Stefano, di dove è la tua azienda? È un'azienda pugliese, precisamente di Andrea. Siamo un'azienda di produzione, produciamo abbigliamento intimo sia per la donna che per l'uomo. Quest'anno ci siamo concentrati principalmente anche sulla collezione della pigiameria, ampliando l'offerta, ripeto, sia per la donna che per l'uomo, discostandoci un po' dal pigiama tradizionale, quindi un pigiama un po' più fashion, come appunto possiamo notare dalla collezione. Stefano, volevo parlare anche del packaging, no? Bellissimo, fashion anche lì, nero. Curato nei minimi dettagli, nel senso cerchiamo anche lì di dare un pack diverso dal solito, un pack senza un'immagine ma che parli appunto la lingua della collezione, quindi molto semplice ma nello stesso tempo fashion e delicato comunque. Che esprima quello che è XS. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi.